Ok, alziamole insieme! Guarda che belle queste fragole! Sono perfette! E ho anche della cioccolata per intingerle! Proviamo un po'! Già mi piace questa challenge! Ecco qua! Mmm, deliziosa e succosa! Wow, che mi succede? Mi sono trasformata in una principessa delle fiabe! Wow, guarda che ali! Sono spettacolari! Devo assaggiare le mie ora, non vedo l'ora! Aspetta un attimo! Userò questa cannuccia! Toglierò questo così! Oh sì! E ora userò questa siringa! Per riempirla con cioccolata rossa! Ok, e ora riempiamo la fragola! Fatto! Ora direi che assaggio! Oh sì! È deliziosa, hai ragione! Che succede? Cosa sono? Ah! Sei una specie di Yeti Pop It! Pop It? Ehi! Premili! È divertentissimo! Mi fai il solletico! Oh, ne hai un po' in testa! Ok, chi si tocca il naso per prima inizia! Oh sì! Ho vinto! Uffa! Non so come ho fatto a mancarlo! Non ci credo! Guarda che pizza fantastica! Sarà buonissima! E lo è! Miam miam! Ma che succede? Dov'è finita? Sara! Dove sei finita? Non lasciarmi sola! Wow, mi sono teletrasportata in Italia! Uh, guarda che pizza deliziosa! Ed è ancora più buona! E c'è anche da bere! Emma? Che ci fai nel mio bicchiere? Aspetta, forse mi sto immaginando le cose! Fiu! Sarebbe stato strano! Beh, è il momento della pizza! Pizza e soda sono la combinazione più buona che ci sia! Sara! Come puoi abbandonarmi? Sara! Sara, dove sei? Oddio, sei tornata! Grazie a Dio! No, no! A posto così! E tu cos'hai? Oh wow! Guarda che caramelle bellissime! E sono sopra una torta! Non vedo l'ora di assaggiarla! Mmm, deliziosa! Oh! E ora dov'è finita pure lei? Vabbè, almeno posso mangiarmi la mia pizza in pace! Ripartami in Italia, pizza! Wow! Dove sono? In cima a una montagna! Che freddo! Ehi, c'è qualcuno? Sì, ha funzionato! Sono di nuovo al mio tavolo! Cos'è questo rumore? Forse è solo la mia immaginazione! Prima le signore! Oh! Guarda che bellezza! Ma cosa fa esattamente? Ho un'idea! Oh! Lo farò! Per favore, non farlo! È lì! No! Sono pronto ora! Wow! Guarda come va quell'elica! Mi sa che abbiamo fatto qualche danno! Mi ero quasi perso le caramelle! Dentro! Non male! E il tuo? Grazie per averlo chiesto! Sono gelatine! Metto questo distributore al lavoro! È l'ora di uno spuntino! Cannella! Dammene una, dai! Gnam! Ambarabà, cicci, cocco! Tocca a te! Come prendo le caramelle? Vincerò di sicuro! Guarda! Che figata! Sarò fortunata? Mi sto innervosendo! Ah! Ma ho solo una caramella! Non la chiamerei una vera vittoria? Le mie papille gustative non sono d'accordo! Passiamo al mio turno! Che devo fare con questa cosa? Sembra semplice! Tira giù questo! E... Bingo! È un lecca-lecca da portare in giro! Sembra buono! Delizia panna e ciliegia! Miau! Ehi! Lo finisci? Vola via! La mia caramella! Non ci credo che l'hai fatto! Non lo metterò mai in bocca! È disgustoso! Niente più lecca-lecca sporchi! Ecco a che serve la custodia! L'ho scampata bella! Grazie! Grazie mille! Julie, prima tu! Ehi! Ma che figo! Sì! Adesso devo assaggiarlo! Spero sia dolce! Sì! Sa di lamponi! Mmm... Dolce, ovviamente! Ed io? Ma guarda! Che ci sarà qui dentro? Aspetta! Hai sentito? C'è qualcosa di croccante, vedi? Ma è ancora più figo! Mmm... Croccante e dolce! Mi fa venire voglia di cantare! Ed è ora di dare sfogo alle mie corde vocali! Woo! E quello lo chiami cantare, accidenti! Eh già! Qualcuno sta cantando! È per il tuo bene, Kylie! Come sei scontrosa! Allungherò un pochino le gambe, allora! Sì! Ecco qui! Vieni dalla mamma! Ma cosa... Com'è potuto accadere? Sul serio? Questa ragazza è fuori di testa! Facciamolo! Sono dei... Vate? Fanno passare la fame queste! Ma bisogna essere coraggiose! Io ci provo! Ehi! È un lecca lecca! Mmm... È già veramente buono! Questo butter non è poi così male! Vedi? Non avrei mai pensato di trovarci dentro dei dolci! Non è fantastico! Mmm... È super aspro! Ok, mi hai convinta! Ok, mi hai convinta! Il mio è tutto rosso! Ed è... Bello... Intasato! Io non ne voglio sapere nulla! Ma era tutto lì dentro! Questo sì che è inaspettato! Non so da dove cominciare! Kylie, non ti ingozzare! E almeno togli l'involucro, no? Accidenti! Non mi sento tanto bene! Posso averne una? No! Come vuoi, egoista! Au! C'è qualcosa che non va! Ne mangerai ancora? Certo! Ehi! Ma dove è andata? Adesso mi serve un vero water! Cosa? Che cos'ha il water che non va? Ah! Ci è totalmente cascata! Pronta? Apriamoli! Non ci credo! Non sono bellissimi! Wow! E per me? Non dovrebbero essere di più! Tina ne ha un milione! Chissà quanto viene alta! Ho l'acolina in bocca! Una torre paradisiaca! Ti dispiace se me la mangio tutta? Gnom! Ti sciolgono in bocca! Vuoi farmi rosicare? Sai cosa? Wow! Moltiplicatevi! Sta funzionando! E ora vediamo il risultato! Sembra qualcosa di grosso! Oh! Sara, stai bene? Oh sì! Stolla grande! Ehm... Ripensandoci! Ti fa ridere, eh? Dai! Prendile un po' da me! Grazie, amica! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie per la visione!